a questo gioco. Allora, qui noi tra poco vedremo poi tutti questi segnalibro, molto belli, i vostri compagni dicono che è bellissimo, è pure plasticato, è proprio un segnalibro, quindi lo potete conservare tranquillamente, lo potete recuperare in qualsiasi cosa. Allora, qui ci sono tutto quello che riguarda il premio, dal sito dove voi vi dovete collegare, è qui sotto, è scritto www.robertococco.it, voi cliccate qui, il computer ce l'avete tutti, sì? Sì. Cliccate su robertococco.it e vi appare Ministero dell'interno, sezione patentino, come prima schermata proprio. Allora, voi cliccate su patentino, perché sono quiz quelle che dovete queste varie opere, patentino e lì si apre la sezione dei quiz, segnali stradali, di pericolo, di divieto, di obbligo, eccetera, e poi lì cliccate e vi appaiono delle schermate dove ci sono tante domande.